Ciao a tutti, io sono Nicole, benvenuti sul mio canale Come avrete notato dal titolo, il video di oggi sarà un assaggio snack americani speciale Halloween Ho ordinato una mystery box da American Snackery Questa mystery box contiene tantissimi snack a tema Halloween Ma non perdiamo tempo perché sono super curiosa di vedere che cosa c'è qui dentro Ho tantissima fame, apriamo la box Apriamo? Ok, adesso mi dai Vediamo che cosa c'è nella mystery box Wow, che emozione Quante cose Pensavo che ci fosse molto meno roba Wow, perché comunque la scatola era abbastanza piccola Quindi questo mi ha ingannato Ok, allora vedo già qualcosa che mi sta facendo impazzire Perché non le ho mai provate Ovvero le fritos Che sono delle patatine a base di mais Al gusto barbecue Wow, guardate Sono super curiosa di assaggiarle Secondo me sono buonissime Perché è il barbecue Ok, apriamo Vorrei che voi possiate sentire lo dolore Mio dio, guardate Assaggiamo Assaggiamo No, non ho mai assaggiato qualcosa del genere È buonissimo In pratica hanno la stessa consistenza Dei nachos Non so se conoscete quelle patatine messicane Che si mangiano con le salse a forma di triangolino Ecco, la consistenza è la stessa Ma il gusto è buonissimo Si sente proprio La salsa barbecue Sono buonissime Ha un sacco di mexican vibes Non so perché Comunque in America certo che hanno le cose più buone Questo a casa mia non durerà neanche un giorno Infatti oggi le finirò A queste patatine penso che dovrò un otto e mezzo Allora, la prossima cosa che prenderemo sarà I cintos Allora, queste patatine sono fantastiche Secondo me sono super 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 American E sono come le nostre ponzi Solamente che sono più rossicce E hanno diversi gusti Queste sono al sweet chili E credo queste qui con il pacchettino nero Le avevo già assaggiate nel mio ultimo video di snack americano Per chi non le avessi mai viste Sono fatte così Assaggiamo l'una Queste sono al gusto sweet chili Che non sono piccanti Ma danno quel gusto di Non lo so, peperoncino dolce E al Cheetos Diamo un 9 e mezzo Perché queste patatine sono il top Ok, guarda un po' che cosa c'è Qui Che carino Guardate questo qua Tutti i rastrini È un wafer all'oreo Wow E dietro c'è un'altra cosa Adesso vediamo Allora, quindi un wafer all'oreo è Che cos'è questa cosa? Mmm Highland tofu Tufi Sarà di caramello allora Ed è masticabile Poi c'è scritto chewy bar Assaggiamo prima il wafer all'oreo Che veramente non sapevo neanche Che esistesse Vi faccio vedere un po' la confezione Che è carina Un odore Veramente forte di vaniglia Guardate È tutto quanto di cacao Wow Io amo i wafer Questo wafer al gusto areo Mi è piaciuto un sacco Infatti si sente che è molto più dolce Del normale E questo mi piace un sacco Quindi gli do un 8 Ok, adesso proviamo questa caramella Sono super curiosa No vabbè Il gusto è buonissimo Sa di latte Di caramello Questa barretta per me È uno sni Perché allora Il gusto mi piace tantissimo Perché è il gusto tufi Quindi caramello Però Veramente È tanto 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 Dura da masticare Ti si incolla un sacco Ai denti Quindi per questo Li do un 7 Meno Allora Adesso secondo me Ci sta tantissimo Una bibita E questa è l'unica bibita che ho Ovvero la Dr. Pepper Allora Da quello che so È una Bibita gassata Un po' come la Coca Cola Credo Però Per esserne sicuri E poter velo descrivere al massimo La proviamo insieme Che ansia Ok Questo non me l'aspettavo È al gusto di ciliegia Devo dire che questa è molto 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 Più frizzante Della Coca Cola Wow Senti proprio quando la bevi Che le bollicine ti scoppiano in bocca E mi ricordo un sacco La candela Che ho Della Yankee Candle Black Cherry Che però Stranamente non sembra affatto Un odore artificiale Sono proprio le ciliegie belle Rosse Wow Questo mi ha stupito tantissimo E quindi per la Dr. Pepper Barra Coca Cola Alla ciliegia Le do un Dai Un 9,5 Se lo merita Se vi immaginate guardare un bel film Con le Cheetos E questa Dr. Pepper C'è Fantastico Vediamo un po' che cosa abbiamo qui Ok Questi sono i Rocky Mountain Marshmallow Guardate quanto sono enormi E qua Guardate vi faccio vedere C'è la ricettina per fare gli studi S'mores Che per chi non li conoscesse Sono i Marshmallow Bruciati sul fuoco Di solito si fanno nei campeggi Attorno al falò Si possono fare anche coi fornelli Accendendo il fuoco dei fornelli E Vengono arrostiti i Marshmallow Poi si sciolgono E si mettono tra due cracker Integrali Con la cioccolata E wow Questi Sono i miei preferiti Gli smores Li ho soggiati una volta in America E adesso potrò fare gli originali Adesso apriamo la busta Così Ok E prendiamo uno Vediamo Mamma mia è enorme Guardate Sono morbidissimi Ok Sanno di zucchero Sembrano un sacco la fluff solidificata Veri Marshmallow questi Top Anche in Italia ci sono i Marshmallow Ma veramente Con gli americani Non li batte nessuno Ai Rocky Mountains Marshmallow Do un 9 Le prossime cose che assaggiamo sono Vediamo Questa è una barretta di Hershey's Però Al gusto gold Quindi con peanuts E pretzels Quindi questo ha Pezzettini Di arachidi E i pretzel Guardate Wow Questo mi dà un sacco di Halloween vibes Questo dobbiamo subito 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 Assaggiarlo È il momento della verità Wow No vabbè Non l'ho mai visto di questo colore Guardate È veramente Sa di burro d'alachidi Guardate Oddio È disposizionato in una maniera stranissima Guardate C'è la scritta Hershey's Però sono due verticali E un'orizzontale Il gusto è veramente molto leggero Non è forte come gli altri due Io ho assaggiato quello al gusto cookies and cream Che proprio si sentiva la vaniglia e il cioccolato Biscotti del cioccolato fortissimo E anche quello al cioccolato al latte Questo invece è un gusto super delicato E poi si sente l'odore e il retro gusto Dei pezzettini di pretzel e degli arachidi Che danno quel tocchetto di salato Che veramente ci sta un sacco E poi mi piace anche il fatto che è molto crunchy Quindi si sentono i pezzettini all'interno del cioccolato Questo è diventato il mio preferito E adesso sono diventata team Hershey Golden E non più team cookies and cream Quindi a questa bellissima e buonissima barretta di Hershey Do un 10 Per adesso al primo posto Ok prendiamo Questo Allora abbiamo dei Kit Kat bianchi Al gusto apple pie Che sarebbe torta di mele E veramente non li ho mai visti in tutta la mia vita È super particolare questo gusto Perché non ho mai visto questa combinazione Apple pie E cioccolato bianco Inoltre è una limited edition Sono super curiosa Assaggiamoli Wow Ok A me per adesso Oddio ho capito che cosa sanno Questi qui sanno di sciroppo d'acero Di cioccolato bianco Guardate che carino Wow Ok Wow Sono super dolci È vero che si sente anche un po' il gusto della mela Ma secondo me è tipo una mela sciroppata Con sciroppo d'acero Wow Ha un gusto particolarissimo che non mi aspettavo Perché intanto il cioccolato bianco Ci sta un sacco con l'interno croccante E il gusto Di secondo me sciroppo d'acero E comunque mela caramellizzata Ed è molto tenue Ma allo stesso tempo Il gusto è molto interessante E a questi KitKat gusto Apple pie Do un 9 più La prossima cosa la scelgo a caso Qui c'è la box Wow Io amo gli Oreo Guardate Questi sono gli Oreo spooky E sono un'edizione halloweeniana Vanella flavored Guardate Sono gli Oreo Si chiamano spooky Tutti qua un po' spaventosi Perfetti per punto La spooky season Ovvero Il periodo halloweeniano Io veramente adoro gli Oreo Infatti ho fatto pure un video challenge Con le mie cugine Che vi linkerò qui sotto Dove erano bendate Dovevamo indovinare il gusto di Oreo Quindi ero assoluti tantissimi Ma questo qui Spooky Vanella Non l'ho mai visto Anche se So che in America Sono abituati a fare Tante cose particolari Per le feste Infatti Guardate che bello Vi immaginate se pure il biscotto All'aragnatela Cioè io non ho idea Però spero un sacco Che sia così bello decorato E se l'interno è arancione No vabbè Ok sono troppo curiosa Piano Ops Vabbè Non mi è da piangere Dall'emozione Oddio Guardate Si vede perfettamente L'aragnatela È la prima volta Che vedo un Oreo Così decorato Di solito Sono sempre il logo E mi piacciono un sacco E la crema È arancione Guardate La crema è arancione Questa è la cosa Più halloweeniana Che abbiamo arrangiato In tutta la mia vita E veramente Secondo me Questo biscotto È Halloween Cioè guardate Che bello Fantastico Adesso devo finirlo È molto buono Io amo l'Oreo Il gusto è molto simile All'originale Però Quel Più di Non lo so Vanigliato Leggermente un po' più Zuccherato E Veramente È prezzo un sacco Che si siano impegnati Quasi tanto Per Decorare i biscotti Con l'aragnatela E mentre Secondo me Questo è un tocco Di classe Quindi A questi biscotti Diamo Un Nove È impressionante Come così tante cose Siano entrate In questa Scatoletta Che veramente Non è tanto grande Ma proprio Non lo so Il forziere del tesoro Non finirà mai Come la borsa Di Melly Poppins Oh Allora Secondo me Adesso c'è stato tantissimo Qualcosa di salato Questi sono salati Si sono Formaggio Si chiamano Saunders E Ah Sono dei pretzel Si con all'interno Formaggio E sembrano un sacco Buoni Wow Non li ho mai visti So che mi piaceranno Io adoro il formaggio Guardate Ovviamente Gli americani Vanno anche loro Pazzi per il Cheddar cheese Quindi lo mettono Dappertutto E a me piace un sacco E Non lo so Mi da un sacco di Fall vibes Autunnali Adesso Apriamo Ah no L'odore Che non riesco a distinguere Vediamo Ah è pretzel Si si No vabbè Ok Sono super carini Non li avevo mai visti In tutta la mia vita Neanche su internet E sono proprio dei pretzel Con all'interno Del formaggio Sono buoni Però comunque I pretzel Non mi fanno impazzire Così tanto Però Sono buoni Da mangiare Guardando la tv Quando hai voglia Di uno snack A questi Saunders Cheddar cheese Pretzel sandwich Do Un Otto Meno Ok Ho lasciato per ultimo La mia cosa preferita Questi qui sono La mia ossessione Allora Ci sono ben Tre pacchetti Di tipi diversi Di Risis Per chi non li conoscesse Sono queste Tartine di cioccolato Con all'interno Il burro d'arachidi Combinazione Top Ma veramente Top In America fanno di tutto Col burro d'arachidi E il cioccolato Io Amo questa combinazione Mi sono messa pure A farle a casa Che Non sono buoni Come gli originali Ma Adesso Finalmente Ce li ho E veramente Non mi aspettavo Che venissero Tre pacchetti Allora Questi sono Gli originali Che sono le Tartine Quindi questi Non li apro Perché voglio avere Una sorpresina Per Halloween Questi sono Sì Allora Sembrano dark chocolate No C'è scritto milk chocolate Ok Questi sono Quelli un po' più grandi Infatti sono i king sized Questi invece sono No vabbè Solo dei buffer Con dentro il burro d'arachidi E ricoperti di cioccolato Guardate Questi proprio Non li avevo mai visti Mai assaggiati Allora Questi due pacchettini Di Reese's Li voglio conservare Per Halloween Perché comunque Li ho assaggiati Molte volte Anche qua su YouTube E infatti Ci sono Praticamente Tutti quanti I miei video Quindi Magari vi linkerò Qui sotto I miei altri video Dove li ho assaggiati Così potete sapere Che cosa ne penso Mentre adesso Voglio assaggiare Qui con voi Questi Reese's sticks Che appunto Sono i buffer Io Quando sento Questo odore Questo è l'odore Dell'America Il cioccolato Al latte Con il burro d'arachidi Ok Ci sono due stick Oddio È gigante Guardate È grandissimo Lo assaggiamo Subito 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 Non c'è da fare È buonissimo A differenza Dei Reese's Normali Appunto Questo qui È un buffer E La parte buffer Non mi fa impazzire La copertura di cioccolato E il burro d'arachidi Sono buonissimi Ma proprio a causa Del buffer Il burro d'arachidi Non si unisce Tanto bene Con Il cioccolato Quindi È Un sì Ma non tanto Quanto i Reese's Quelli proprio sono Mille A questo Do Un Nove Per ultimo Ho lasciato le caramelle Che secondo me Non possono mai mancare In un box di Halloween Questa è super carina È una dentiera Di vampiro Gommosa E si chiama Gummy things Poi Abbiamo Ok Questi sono Degli rossetti gommosi Chiamati Halloween bears Poi abbiamo Due caramelle Che si chiamano Luffy Tuffy Che penso Siano Un po' Tipo quelle Barrette di caramelle Solide Questa è Il cocco E questa qua È Alla dark cherry Per ultimo C'è una caramellina Gommosa A forma di bulbo Oculare Ed è verde Perché ovviamente Sapevano che io Ho gli occhi verdi Coincidenza Io non credo È la magia Di Halloween E questo era il video Spero che vi sia piaciuto Come è piaciuto a me Registrarlo E mangiare di snack Vi lascerò qui sotto Il link Del sito American Snakery Io sono super soddisfatta Di questa mystery box Veramente era piena Di treasures Di tesori E niente Se vi è piaciuto E volete vedere altri video A tema Halloween Mettete like Iscrivetevi al mio canale E accendete la campanellina Così non vi perderete I miei prossimi video Se volete Iscrivetevi anche I miei altri social Che sono qui sotto Nell'info box Ovvero Instagram E TikTok Noi ci rivediamo A un prossimo video Ciao